Ritengo importante, anzi direi doveroso che in questo luogo, che è il cuore della democrazia italiana, venga ricordato George Floyd. George Floyd è ucciso brutalmente da un agente di polizia a Minneapolis il 25 maggio scorso. La sua morte, signor Presidente, ha scaturito, lo sa bene, ha suscitato proteste in tutto il mondo. Scorso fine settimana abbiamo visto milioni di persone, di ogni credo, di ogni colore, che sono scese in piazza con tranquillità, pacificamente, non solo negli Stati Uniti ma anche in molte città europee e anche nel nostro Paese, Presidente. A Torino, a Bologna, a Roma, moltissime persone hanno gridato il loro rifiuto verso il razzismo e verso i violenti abusi di potere. Sì, perché il razzismo è presente anche da noi nel nostro Paese e perché i violenti abusi di potere sono accaduti e accadono anche da noi. E allora è importante ribadire anche in questa sede, in quest'Aula, un no forte, chiaro contro ogni forma di discriminazione. E come è stato detto ieri molto bene nella bella piazza del popolo, io qui lo ripropongo. Io non respiro perché sono donna, io non respiro perché sono disabile, io non respiro perché sono immigrata, io non respiro perché sono europea, io non respiro perché sono musulmana, io non respiro perché sono gay, non respiro perché sono lesbica, non respiro perché ho la pelle nera. Black Lives Matter. Grazie signor Presidente.